Ciao, sono Valerio Novara. Abbiamo succulente anticipazioni che riguardano la quarta stagione di Marefuori, quindi mettetevi comodi e statemi bene a sentire. Allora, le riprese di Marefuori, come accennavamo anche in un video precedente, le riprese di Marefuori 4, la quarta stagione, inizieranno a breve. Si parla del 16 maggio, tutt'al più il 22 maggio dovrebbero iniziare le riprese nel carcere minorile che abbiamo amato e visto nella serie e che è ambientata nella Marina Militare di Napoli. L'attore che interpreta Lino infatti ha accennato che è stata affittata la location, diciamo, a partire dal 16 maggio, ma al massimo le riprese inizieranno a partire dal 22 maggio. In questo video faremo un po' il punto sulle novità che ci sono e le anticipazioni che hanno svelato il settimanale Chi e il portale fanpage.it, quindi cercherò di fare un sunto della situazione e di rivelarvi anche chi saranno i protagonisti, chi tornerà e chi no. Tra le persone che non torneranno c'è Nadizza, Valentina Romani, l'attrice che interpreta Nadizza, ha proprio chiaramente salutato tutti durante un'intervista, ha detto è stato bello interpretare questo personaggio, ma Nadizza non ci sarà nella quarta stagione, ma era anche forse giusto così, era stata chiusa la sua storia al termine della terza stagione dopo questa fuga con Filippo e tutte le ripercussioni che ci sono state a livello di coppia. Mentre chi tornerà sicuramente saranno Rosaricci e Carmine Di Salvo, anche perché la prima puntata di Mare fuori 4, udite udite, abbiamo il titolo della prima puntata, si intitolerà Nel nome dell'amore e questo ci porta alla fine della terza stagione quando vediamo Carmine Di Salvo e Rosaricci che usciti per un permesso dall'IPM di Napoli si ritrovano in segreto e si baciano, poi lì arriva il padre di Rosa Don Salvatore con una pistola in mano e udiamo solo uno sparo, quindi la serie, la terza stagione si è conclusa con questo mega cliffhanger che non ci ha fatto capire un cazzo di quello che è successo, anche se ci sono state moltissime teorie, torna Ciro, non torna Ciro, è morto Carmine, è morto Don Salvatore, diciamo le anticipazioni che sappiamo e che abbiamo letto ci fanno pensare che la produzione non rinuncerà ai personaggi di Rosaricci e Carmine Di Salvo perché sono determinanti per la storia, sono stati determinanti ma ci stavamo cominciando ad affezionare anche a loro, quindi difficilmente succederà qualcosa di brutto a questi due personaggi, è più probabile che ad essere ferito sarà proprio Don Salvatore Ricci. Ma passiamo alla domanda più grande che vi state facendo, se ne sono sentite di tutti i colori, ne ho lette di tutti i colori, cerco un attimo di fare il punto anche col mio punto di vista, torna Ciro Ricci, torna Giacomo Giorgio a interpretare uno dei personaggi che paradossalmente è tra i più amati nonostante insomma sia morto alla fine della prima stagione. Allora, quello che sappiamo è che era uscita questa foto in cui si vede Ciro Ricci o perlomeno si vede Giacomo Giorgio con in mano una pistola in un seminterrato che entra in un seminterrato che scende queste scale. L'attore inizialmente a fanpage aveva detto non so chi l'abbia fatta uscire, io non ne so niente, non c'entro niente. Per poi comunque confermare al Corriere della Sera in un'intervista che lui sarebbe stato presente nella quarta stagione di Marefuori. Quindi allora confermiamo che ci sarà Ciro Ricci se non in presenza, in un ritorno ma in dei flashback sicuramente ci sarà, Giacomo Giorgio sarà presente durante le riprese della quarta stagione di Marefuori. Oppure l'ipotesi è che in effetti non sia morto alla fine della prima stagione, avevo già detto in un video precedente quanto fossi rimasto un po' così, un po' perplesso sulla morte di Ciro Ricci, non ne ero convinto, a parte che si è visto veramente poco e poi la pugnalata che gli è stata inflitta era ai reni, più o meno, l'altezza è quella e c'è gente che non è morta per molto di più e quindi insomma mi ha lasciato un po' perplesso la morte di Ciro Ricci, l'hanno fatta molto veloce e chissà che non sia riuscito a salvarsi, a scappare dall'atitante e che possa tornare nel momento in cui la sorella e il padre e soprattutto il padre ha più bisogno di lui perché vai glielo a raccontarci Ciro Ricci e Rosa sta insieme a Carmine di Salvo, so cazzi, quindi staremo a vedere quello che succederà. Per quanto riguarda invece Filippo Chiatillo, come avevo letto l'attore non dovrebbe essere presente nella quarta stagione, è uscito, la sua storia si può dire conclusa insieme a quella di Natizza, anche se da dietro le quinte ci sarà la presenza di Filippo perché continuerà a scrivere delle lettere dal carcere minorile Beccaria di Milano, continuerà a scrivere delle lettere al suo amico Carmine, quindi la presenza almeno virtuale, almeno su carta stampata di Filippo o Ghiattillo ci sarà, anche perché è uno dei personaggi a cui ci siamo affezionati di più. Chiudiamo queste nostre analisi e anticipazioni con le notizie che riguardano la sorte di Edoardo. Sul finire della terza stagione l'avevamo visto in ospedale che riapre gli occhi proprio nell'ultima puntata della terza stagione di Marifuori. Edoardo che è stato colpito e salvato dal comandante, è stato portato in ospedale, avrà sete di vendetta nei confronti proprio di Don Salvatore Ricci che lo voleva morto e quindi anche nella quarta stagione tutto ruoterà intorno a queste faide tra i Ricci, i Conte e i Di Salvo. Altro personaggio che vedremo, altri personaggi che vedremo saranno Cardiotrap e Pino, confermatissimi, nonostante le voci che dicevano non tornano, 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 anche perché se non tornano manco loro che la fanno affasta la quarta stagione, se ne stanno andando a tutti. Ci saranno Crazy J che ha iniziato a scoprirla nella terza stagione, Nicciarella e questi tre, questi tre, occhio a questi tre che sono entrati nella terza stagione, Doberman, sono new entry che esploreremo più da vicino nel corso della quarta stagione, anche perché poi gli attori stanno crescendo, i personaggi che interpretano stanno crescendo e quindi dovranno entrare nel mondo degli adulti, ma credo che servirà una scossa all'interno del carcere e che quindi ci sarà uno dei ragazzi che diventerà molto cattivo e che scombussolerà un po' la serenità, se vogliamo, perché poi sul finire della terza stagione abbiamo intravisto un po' di caos generato dall'arrivo di questi tre nuovi. Ci sarà ancora Silvia e ci potrebbe essere un qualcosa a livello amoroso con la guardia carceraria Lino, anche perché sul finire della terza stagione avevamo iniziato a vedere che c'era del tenero fra questi due e non era la prima volta. Quindi staremo a vedere. Arriverà anche un nuovo personaggio, la sorella della nuova direttrice del carcere, Sofia Durante. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, tanta carne al fuoco, mare fuori quattro, le riprese stanno per partire, purtroppo lo vedremo in tv sulla Rai solo nel 2024, nei primi mesi del 2024 uscirà. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciacchiazione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di news, cinema, serie tv, film e io vi do appuntamento al prossimo video.